ma indietro non ti sento vabbè o poi stazione dimmela poi c'è un po di stazioni parti e basta questa azione pari non vediamo se c'è di andare nei posti e ballare audio chat mi raccomando dite cose troppo drasticamente brutte consente la condivisione della tua voce questa poi se lo dico chiudono teoria posso anche fare di mi dissocio e quindi sono a posto però tu non dire troppe cose non gli danno fastidio ma io sono contro quando sono in live c'è no aspetta le parolacce non vanno bene ma le bestie no le parolacce si intendevo cose tipo non dite cose troppo razziste o a livello politiche tipo fra oppure n capito il cilindro burin e si può dire come ho capito tutto si c'è afroamericano che io dico cazzo non ti succede niente no 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 cos'è che puoi dire puoi dire cazzo affanculo troia puttana la maremma toscana dico g g per cosa sta quel g però gay e omosessuale vanno bene perché sono le vere parole basta che non dici è quello è un è di merda e twitch è fatto così c'è i problemi quello c'è il diamante quello c'è il diamante sul petto ma quello col cappello sembra raiden versione stracattiva di di mortal combat ma lo sai che io c'è la quale è la ramoscia ce l'abbiamo tutti si ma sembra raiden cattiva sembra cattivo volevo dire raiden chi? raiden di mortal kombat il dio del tuono però sembra cattivo la versione è quella cattiva ma non è niente gli occhi rossi ma io non voglio combattere contro quello che c'è il martello ma c'è tipo l'effetto vengono gli occhi rossi io l'odio quello che c'è il martello ma cos'è il nome? il fabbro abbiamo hammer bros abbiamo due raiden natarocco 2 boraccio e raiden 2 boraccio e raiden 2 boraccio e raiden 2 boraccio e raiden raiden però è un po' è un po' cattivello è birichino è un po' più sexy questa va bene si si queste cose vanno bene ma non ha senso ma lo so che non ha senso ma come non ha senso? che vuol dire? per quanto mi riguarda si dovrebbe poter dire tutto cioè la libertà dell'opinione regna su qualsiasi altra cosa niente ha senso in questo mondo devi capire solo questo cioè se tu sei razzista lo puoi dire che lo sei puoi dire cosa odi per quanto mi riguarda è sacrosanto che tu lo dici poi che io ti ritengo una persona di merda sono dettagli però la libertà di parola la libertà di opinione di parola prima di tutto cazzo propino dello sugo chi va nella foresta abbracciano gli alberi e gli tagliano la testa e questa è l'unica rima che tiene da niente certo guarda come vengo cerchinato sul cinema no è mia no è mia oh c'è l'altra legacy c'è l'altra invece no eh e invece no però è una merda mirare qua è molto meglio l'altra bravo oh chi che mi vuole cerchinare eeeh 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 che cazzo è stato super cingan fofoa ma stanno cecchinando a noi a curate perchè è mocecchina ma cecchina no sono i cecchini ne stai a 1 aio manno si ma qualcuno va a succedere a eliminare il cecchino vado ci vado io davvero vado dall'altra parte io che lo so che mi stai mirando dai forza arriva qualcuno si mette sull'altra e me mette sull'altra gli spari non ci riesce eeeh l'ho ucciso eeeh vedi raiden bastardo raiden è un cecchino eeeh e mo non lo è più perchè non c'è la più da destra coi fulmini spari fulmini eeeh è un parafulmini eeeh adesso è un cecchino cieco c'è chi sia c'è chi no ma ma non ci vuole niente appare il parafulmino c'è un buon rai c'ho su c nooo chi è che sta sulla balessa perchè io devo stare da solo su c contro 2 rai lenta rocco ha sempre rai lenta rocco ma allora c'è 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 tu ti sei specializzato insomma distrutto c'è finaggio uno si mette su una toretta uno si mette su una toretta uno si mette su una toretta uno ma ma vai su c è libero madonna me ne sono tenuti me ne sono tenuti due poi è arrivato il soccorso madonna come è andata bene qua che cazzo bravo i ghiota grazie fermo è stato bravo christian amen ok ok vai dai gas no aspetta zona contesa c'è qualcuno mi ho sbagliato perry mi ha schiacciato la testa raga ho trovato raiden ho paura è veloce devi avere paura lui ti fa la deflect hai attaccato ma che deflect ho spam r1 mi ha schiacciato la testa gli ho schiacciato nooo non ho feriato madonna che palle madonna tutta la gente che spamma r1 costante sto i armungard manco file però il problema è che io ho la webcam esattamente dove stanno i punti quindi non so ok che vedo però non vedo la barra sono abitato a guardare di più la barra ehi aiutami ti prego no così c'è il cecchino state attenti c'è un cecchino state attenti mi sa che è raiden di nuovo grazie gri arriva quando sono tutti morti mi raccomando bravo senti forte zitti attacco a sorpresa al cecchino non mi ha notato gli ho tolto metà vita mi sento forte mi sento forte nooo dai volevo cecchino io tu non ti senti forte ma tu l'hai visto io ho fatto io sono andato dietro piano piano e io ho tolto metà vita col caricato che vediamo c'è troppo Oh il foglio non vero troppo facile ma troppo facile che vero troppo facile no 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 merda ha fatto da imparabile che palle incredibility dai uccidere anima ecco 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 l'ecazzato nero arriva qua Davvero è lui No, devo venire, devo venire Chi è Raiden? Chi è Raiden da... È Raiden tarocco Ci devo stare fuori io, ci devo stare fuori io Te prego, te prego Ho capito qua Ebbene ti salverò la vita Scappa No No Non mi ha allocato, mi ho dovuto trasportare Flawless victory E lui mi deve trasportare Ma raga loro stanno a 3 A 300 e l'abbiamo quasi fatto, madonna Questa non te l'aspettavi Gisola guarda non sa fare neanche i perri Non muori No, mamma la cosa in cui è cecchionato redentaro Quando venga si lo sa, appresta a debotte Dove l'ho troppo forte Non è stato bisciottato in pratica, eh? Metà vita io, metà vita tu Vabbè ma perché... Ragazzi dove sei? Posso offrire supporto Posso dirlo? Ero su C fermo ad aspettare l'arrivo C'è Raiden qua Ma posso dirlo con C? Eh? Posso dirlo con... No No, no, è me, mi ha buttato di sotto Ma io di no, ok Dove pensi di te? Ma io di no, ma in generale non cambia, non fa niente, però vabbè Tanto non muore nessuno se dice Oh, io ho attaccato il corona perché Cosa? Eh, ma va bene, mi sono andretti asportato Sì, per il... Tanto lo stai dicendo in termini di cosa Adesso se c'è... Eh vabbè, poi ti ho attento Ce il cecchino, eh Raiden sta cecchinando state attenti Vediamo se scappare di nuovo l'assalto Ma no, 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 no Potevo arrivare da dietro stealth E tu mi hai rubato la chi? Sì, ma io non ci credo Io non ci posso credere Aspetta Si rimette sulla balestra Teletrasporto Come fa a teletrasportarti fin qua? Perché sono Goku no mi ha interrotto mi ha fatto il perry mi ha fatto il perry di nuovo bellissima adesso io vedo se ci riesco a rifare no ma dono ogni tanto sbaglio di tasti e faccio le combinazioni di tasti che dovrò fare con qualcun altro tu uccidi e vorrei ciò uccidi vorrei ciò no mi potevi dica avevi perso perché non lo guardo non ho noti scemo no perché l'ho girato non dire bugie è vero ma guarda ma tre secondi tre secondi se non ero conosciuto lo arabo sto jj corrompo quello è diventato una statua che peccato oh no è stato è stato maledetto la maledizione solo viene terrificato la maledizione della medusa la maledizione del primo rocci fai schifo perché? perché si lo rocci fantasma ai confini dello rocci lo rocci fantasma al cinema domani alle 3 di notte i giapponesi dei caraibor a casa di gabriele si terrà al cinema a casa di gabriele si terrà il cinema ma c'è di nuovo uno a cui piace dragon ball faranno l'ultimo ma sai che in pratica c'hanno tutti i stemmi c'hanno tutti i stemmi delle palle del drago eh dragon ball che cazzo è io ti giuro quando dicono palle del drago due cose mi vengono in mente le sfere del drago di dragon ball e poi le palle di drago che si mangia lo studente di hogwarts che poi le vomita sulle scarpe di piton ma perchè? perchè non mi scordo mai come la scena ah bene allora diciamo sfere del drago buone queste cosa sono? eh io ce l'ho detto sempre di drago e vomita sulle scarpe di piton io ce l'ho detto sempre di sfere del drago invece di palle del drago palle del drago cioè tu preferisci la pronuncia in inglese però poi dici eh vabbè però le palle del drago faglio più ride ma di certo non ha senso ma è schifo allora c'è da dire che in inglese è uguale è dragon ball o balls sulla stessa cosa lo so uguale però però di solito gabriele preferisce la pronuncia in inglese ma perchè per alcune cose grazie a ca cioè scusa mo mi dici ah no aspetta mo mi dici è meglio pronunciarlo spiro del drago no spyro e io eh spyro eh spyro è sempre spyro perchè scusa cioè ho vabbè ho capito ma perchè si pronuncia spiro spiro fa schifo si si pronuncia spiro perchè sarebbe tipo latino una cosa del genere vabbè crash crash funziona crash bandicoot vabbè soffio del drago spiri come non c'ho spiro ma secondo voi c'è qualcuno che lo chiama crash bandico bandicoot bandicoot cv nooo e michael e michael di gta lo chiamava michael eh che cosa dopo un tot di anni ha capito che si dice michael e due schiaffi chi rimane michael con la pronuncia italiana fa un culo la pronuncia in inglese due schiaffi no ma lo sapranno in italiana che la pronuncia in inglese due schiaffi due schiaffi funime alla galassina è più figo spyro che ho capito che spiro è un giro se vabbè spiro se vede la gioco così ma io lo chiamo spiro crash no non spandico è crash bandico che come è che in spagnolo è il topo che gira non mi ricordo ooooh approfondus approfondus le idee aio si bella approfondus approfondus le idee cosa dici mamma mia finito la stamina se magari mi perdono madonna sto gioco di merda non ci pia ma non salvami e ci volevo salvare tu c'è buia tu c'è buia tu c'è buia e sei buia non perria non perria non perria madonna ma la metà delle volte a sinistra allora davanti a destra non ho problemi a sinistra non riesco a parare a volte nani ma qualcuno conquisti a per l'amore di dio qualcuno conquisti eh niente il mondo intero con un piano malefico malefico il nostro jj è un po' a ritarderlo ma sbaglio per venire la scuola avversaria si fanno approfondis no cosa te lo fa pensare che a chi stai applaudendo alla tua autostima grazie cosa stai applaudendo sto applaudendo a quanto sei ritardato per fare esecuzioni più lunghe del mio comune ma non è l'esecuzione fate di vedere quella del razziatore o di lei render madonna santa ma c'è letteralmente vabbè da dietro ma non hai visto alcune della rama guarda si guarda che l'ho viste tutti io le esecuzioni ara che proprio ci ho provato a buttare di sotto lo stronzo madonna no mi viene lontano non bastava che mi stavano gancando in due ha pure provato a buttarmi a me mi hanno buttato eh vabbè la sciamana manco attacca aspetta che le tre metri di te compagni fanno nel lavoro per lui no te prego te prego basta arrivo con molta canna marre sciamana che spama sta tutta la sciamana che spama un po' ma donna perché c'hai tutta l'intera famiglia nella stessa stanza dove giochi madonna perché si questa è un corridoio una casa è un fottuto corridoio con delle stanza attaccate è letteralmente così io l'ho fatta vedere come funziona che tu ci vuoi esplode sorpresa 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 oh madonna ce l'hanno tutti con me nooo ho sentito il rumore del Perry e poi ma non me l'ha fatto e vabbè mi scioltano che palla madonna se la tia si fa zero vuoto si ma gankano costante no bravo chiunque stia andando su a è un genio donna sto JJ quanto spammo ragazzi è una villa no mi aiuti stronzo perchè ti allontani cioè sei scemo ma i profondi stime se pure dai ma to ma christian ma mi vuoi far morire io non ho capito io non ho sento Christian tu non ho sentire tu non ho sentire tu so che mi vuole far morire dalla visuale cioè non ho riconquistato a madonna che palle serve serve uno che corre veloce che vada Christian fai il giro lungo e vai su amadon ho preso B come non bastasse scappa pure eh certo non gli sta bene quando uno quando siamo noi a gankare pure vabbè ma pioggia da fuoco no no porco no no perriato dai vabbè grazie da fuori red to meet welcome thank you for the follow quanto fuoco si ma quanto dura il fuoco tra parentesi tre anni eh mo sto tre quarti d'ora per arrivare fin là sai che faccio prima a fermarmi subì a far fuori i bot va eh peccato che il moglie mi è rotto no non si dice hai perso la zona C cioè se perdiamo C si B a posto B ce l'abbiamo chi è che sta venendo gankato? io arriviamo non serviva dai madonna avete rotto di interrompermi l'abbraccio non puoi fare i party ormai ho capito che su For Honor è casuale cosa? il foto del GG non ne ho la minima idea comunque se la smetti si se vuoi ti invito stai tranquillo a red senza problemi cazzo ti beg scappa madonna cioè prima prima ganka e poi scappa nooo l'ho salvata la ah no in realtà no perché non poteva venire schiacciata perché ormai era giù madonna grande non so come cavolo l'ho presa ho fatto uno slancio in avanti per quell'abbraccio però però questi se vuoi giocare ha finito la partita ti invito però non so il tuo nick no mi ha eccito e stavo per usare t'ho ucciso io la corruzione si ma come eh c'avevo pochissima vita l'ho detto che c'era poi se non la smettete di interrompermi l'abbraccio madonna e metà delle volte che faccio un abbraccio ma lo interrompete siete gli stronzi ma ma si nasce pure un'altra persona in teoria si forse da quel che ho capito nella chat poi lo so madonna l'attacco in una nooo costo quadrato di merda oh guarda se vuoi non riesco madonna spam il quadrato e non me l'aspetto quel cazzo di quadrato si si pure lo so che ho fatto no adesso qua spazio triste e cavo ma sono tra i livelli che salti inciotto eh salti inciotto eh lo ziano no lo ziano scrive grazie lo ziano scrive grazie grazie ah salti pensavo salti nel senso di saltare non capivo nooo madonna che si dice salti sei com'è eeeh hai sentito male te sentito ma quante volte vabbè io sono sempre infuocato io sono sempre infuocato io non so perché mi si ricarica ma chi lo stai andando a fuoco io eh grazie oh ma di a tua sorella di stare zitta eeeh eeeh non posso sai com'è allora fammelo dire a me di di che un tuo amico ha detto sta zitto tro vabbè persa questi gancavano costante ma dove perchè cosa vuoi fare? voglio rianimarti con la vita minchia quello va a tre effetti quindi torniamo al menu principale si torniamo il menu e vorrei capire se deve unirsi o no infatti io richiedo ti devo unire o no se ti devo unire dimmelo questo è il mio nick se non ce l'ha no stavo sbagliando numero non so perché tanto controlliamo i personaggi perché so che avete un sacco di cose da cambiare dei personaggi perché riconosco non so io personalizza bracciani merda 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 ok aspettiamo un paio di secondi per intuire se 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 sess sass il dubbio faccio così così a run totalmente a run Boh, non so che fine abbia fatto Ne facciamo un'altra Più che altro non ho capito neanche qual è la frase che ha detto Perché letteralmente lui ha scritto Non puoi fare i party, ormai ho capito che su For Honor è casuale Capito? Neanch'io capisco che cazzo vuol dire Ormai su For Honor è casuale No, ma anche non puoi fare i party Cioè, non ho capito che cazzo intende Boh Cioè, forse lui non sa come fare il gruppo di For Honor Di invitare le cose, non lo so Non ne ho la minima idea Ma perché ti è andato? Non lo so Non risponde più, io gli ho scritto il mio nick in chat Poi boh Magari è andato ad aprire la play Se la stava guardando su play Se la stava guardando su play allora non lo so Che teori C'è poca gente che però se guarda le cose su play, fidati È stata colpa di Christian comunque Christian è colpa tua se tutto è casuale Questa guarda le cose, non lo so a tutti Grazie. Oh. Oh. Oh, mi rispondo da un attimo, mi devo andare. Oh. 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 Ma... Ma mi... Ma si è mutato senza che io dicessi niente. Si è mutato il microfono da solo. Come cazzo è successo? Io devo staccare perchè... Perchè? Non mi staccano ancora bene. Perchè? Stanno facendo dei lavori. E quando torno? Boh. Ma da quanto tempo è che non mi sentivi, Cios? Boh, da te due minuti. Vabbè. Minchia. Ciao. Ciao. Cristian, siamo sempre solo io e te alla fine dei conti. Non lo so. Ma quello c'ha Rick come cosa, hai visto? Anno di palazzi. Eh? Hai visto che c'ha Rick come emblema quello? Chi? T.A.L.2? No, Infernox. Quello che sta con noi. C'ha Rick di Rick e Morti. E allora da assegni familiari. Se non... E assegni familiari, insomma. Eh. Come cazzo ha fatto a mutarsi il microfono? Cioè l'ho strusciato sulla maglietta. Ma che cazzo ha fatto? Boh, vabbè. Vabbè! Vabbè. 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 Quanto spamma l'R1 sto stronzo E' aperiato Noo madonna madonna che palle madonna Sei una merda christa è colpa tua Rianimami Trocato Se me Non sempre interrompermi Non mi ridà la salute se mi interrompete madonna Dicappati Hai perso la zona C Ma hanno preso C ma quando è successo madonna Posso togliere lo sguardo da una parte che Ne conquistano un'altra Certo Madonna ma gli attacchi troppo veloci per essere periati Sì vabbè ma quanto spam Guarda E non ha periato Però dai devono nerfarla Devono nerfarla però eh Sì ma con questo razziatore troll Che cazzo Perché che t'ha fatto Eh niente mi sbattò al muro Poi è finta l'attacco imbloccabile Eeeh L'ho rifinta e mi sbattò al muro Madonna Poi fai gli emot da lontano Il problema è che ti ha ucciso No Che ti trolla Quello è il vero problema No si questo troll avrà Non è perchè mi ha ucciso il modo come gioca Vai nel fuoco No Questo non gioca per giocare Questo gioca per prendere in giro le persone Ma io gioco sempre per prendere in giro le persone Su tbd lo faccio Sì ma tendi di non Sei trappo Cosa Questo spam pure Ma sei una merda Cri Ecco Guarda te lo faccio pure io Oh Urlato Guarda c'è E' salti Oh mio dio Ti ho detto che questo qua se vuole divertir Oppure il salti quando lo ammazzi Ma per me divertirsi vuol dire rovinare la parità agli altri Almeno su tbd Io gioco per questo No Io non la penso Questa io trovo da qualcuno C'è Ognuno La pensa come la vedi Non ti aspettavi Non ti aspettavi eh Non ti aspettavi eh Guarda qua Guarda quante salti Guarda quante salti Così impare Guarda quante salti Guarda quante salti Guarda C'è una livello 4 Buono E niente Dive Il culibritta E' schiva Da Oh ma la smettete Non gli faccio danno in questo modo Cioè ogni volta che faccio il cazzo di pugno Ogni volta Di pugno che cazzo dico che cazzo prima ha questo ti becca a me perchè ogni volta lo ammazzo madonna son da solo son da solo ma vuoi dire questo qua non è tanto non si sta divertendo molto questo questo si sta divertendo no non si sta divertendo per niente per lui si sta divertendo però per me non si sta divertendo tu devi capire che sta solo trollando e basta come tutte le cose ci sono le cose dei punti di vista ma sta solo trollando e basta si ma tu non capisci che per qualcuno trollare è divertente quando per te è divertente è vincere seriamente per qualcuno fare qualcosa di disonorevole è divertente per altri fare qualcosa di disonorevole non è divertente beh vabbè vaffan cool per alcuni una persona che viene uccisa e torturata è divertente per altre persone è orribile la commedia è divertente e il divertimento e la comicità per il leggero singolare per ognuno e la e la guerra fondaglia spam madonna cosa è stato sto framerate guarda fondaglia spam va bene io voglio far quel quittà col razziatore tu pretendi strano che non l'abbia ancora quittato guarda quanto spammi si sono i noi due così impari coglione sono i noi due e va bene faccio io lo fa lei mi sembra giusto so che lei è arrivata mentre stavo con un'altra veramente random ah ma questa è quella che spammava mamma mia quanto te sta bene boh almeno la sua rotta c'è qualcuno su c? si c'è qualcuno su c? c'è qualcuno su c? è buttato di sotto ho sprecato l'ultimo tier dai no no vabbè ma non è possibile giocato solo buttando di sotto vabbè pure ho avuto il terrazzatore si ma loro adesso sono due volte che mi hanno ucciso così oh mio dio bravo razzatore che corre velocemente su a conquistare così che siamo sicuri che non vanno no eh scenzio tu spammi? hai spammo anche io allora? ecco appunto nooo il centurione nooo il cazzotto caricato non c'è poi ma una del nostro team no sarei spawnati e niente è andata a conquistare A o B magari eh ci sto andando io sai com'è sto un po' capita poi non credo che cambia molto le cose però eh da un video si che cazzo è esploso? no non lo so no no non mi buttare di sotto madonna dimeno te che cosa è esploso eh non lo so tu non lo sai niente non lo fa se non lo sai allora cicci oddio le conquistare B ecco adesso siamo noi rotta erano in rotta prima un doveva correre su A per essere sicuro ma no tu devi correreci tu ma no io sono letto in culo ci do correre io su A quando quando sono in rotta non esiste la rivincita ancora non hai capito ho fatto il Perry è leggero ho fatto il Perry è leggero ho fatto il Perry è leggero ho fatto Perry è leggero madonna che scappa guarda 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 il razzettore scappa one shot eh secondo te sono così scemo e vabbè adesso sono uno contro due mi sembra giusto vai ho ucciso il razzettore no mi ha ucciso col pugnale vabbè ma che gioco di merda adesso sta in animale il razzettore vabbè ho una squadra sempre di merda non posso vincere se ho una squadra di merda madonna il gioco è basato sul gioco di squadra se ho una squadra che non va a conquistare le zone o che muore tutto il tempo non posso fare niente ci avevo fatto la doppia madonna perché stai lasciando andare da sola questa sua ma c'è uno che sta menando i minion ma c'è uno che sta menando i minion che è uno che stati ve lo buttavo di sotto avrà capito ma questo cosa fa dove va questo va su C Vabbè, hai un... ecco perché perdiamo Perché abbiamo un membro della squadra che ho rincogionito Eh, grazie C'è questo a menare i nino mentre voi attaccavate la zona E poi è andato su C a curarsi Guarda come mi ti begga, guardalo Guarda come mi è stato impegando, bellissimo Io ci certe volte ci godo a vedere Ma quanto cazzo va veloce da pacificatrice? È troppo, cioè come... C'è il coso del gatto oltre a essere piccole C'è per forza l'abilità, non può correre così veloce Non lo so se è il coso del gatto Probabile Ma non so neanche se è una decollabilità Cioè non so neanche se c'è là, quello è bello Immagino di sì, dai, cioè Un po' correre così veloce senza verce Si possono vedere solo l'inizio partita quelle robe là Oppure no Io stavo, io stavo... Cioè noi avremmo vinto se questo strozzo non aveva il pugnale Perché io sono morto perché mi ha pugnalato lo stronzo da lontano Perché ero one shot Ma anche lui era one shot Non ce l'ha l'abilità Non ce l'ha l'abilità del gatto comunque La pagina dice proprio veloce di su Ma non può essere così veloce Guarda come mi ti tè È troppo veloce Guarda attenzione come mi ti becca Bellissimo Ah ma era un bot È per questo che andava Ah ma era un bot Era bot anche prima No ha quittato adesso Ah ecco no Perché cioè È un ritardato No l'ha visto No inferno no Perché ha rispettato Ah complimenti Si mette il logo di Rick e Morti E poi fai il rincoglionito E non sai neanche quello che deve fare in partita Poi quello che vuole Niente ha quittato tutta la lobby Eh no ha fatto l'errore Ha fatto l'errore di rete No ha quittato tutta Se n'è andata tutta la lobby E a parso ci dispiace Che i nostri server Bla 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 Rincoglionito No ma non è quello Quello non fa quittare la gente Quello non dare di compenze Quello non è quittare Quello semplicemente Fa separare tutti Ignoranti di merda E quella Eh ma io ti sto dicendo quella cosa Non è perché Ha fatto l'errore del gioco No no zitto Tu non sai niente Muto devi stare Capito Muto Muto Perché non posso avere Il libro Non è tuo diritto Tu sei un essere umano Chi è il frascio di chi Chi io Legacy Chi è Riggio Un tuo amico Che Chi è Riggio Un tuo amico Ah ma parli con Nike Ma chi è Non sta in questo party Ah e dirlo prima allora Eh scemo Ma lo so Ti sto prendendo in giro Avevo dei templari contro Ragazzi può smutare No non lo faccio mai Nella vita Neanche se mi paga No non lo vuole fare mai nella vita Neanche se lo pago Eh lo so Sta scrivendo qualcuno Giochi Ti dico di più Vengo con te Ma dove Ma te ne vai Merda che non sei altro No Anzi Mi dai un bacino Esatto Come fa il templario Ci sono i templari No Meno male che ho scelto Ho scelto Samurai Boy Samurai Boy V S C'è uno che c'è lo stemme Del cappello De paio One piece Dai Ma quello è un guardiano Del sole Hai visto Ah nel sole È proprio lo scudo No No è proprio lo scudo Cioè se lo trovi È un sun bro È un sun gamer Sandro Chi San bro C'è pure lo stemma Di one piece Vabbè basta Mi è arrivato Questo qua è un mito Gli do l'amicizia Basta Però cioè Mi sembra che abbiamo Una squadra contro Di rompipalle Nel senso Centurione Gradiatore Nobushi E priore Non mi piace Posso dirlo Io ho sbagliato item Dello rocce Gli ho sbagliato Della mini Hai l'arco e il pugnale? Eh no Perché non mi salva Le impostazioni Perché sei scemo Devi farlo prima Quando sei separato Le cose L'ho fatto Non è vero Non mentire Sì L'ho fatto 300 volte Senti le che tu non capisci niente Sei tu che non capisci niente Ignorante di merda Mmm Oh madonna Vabbè Non ci credo Questo c'ha già la vendetta Com'è che funziona Tenebris Attacco in zona Tenebris Attacco in zona Eh certo Ma questo c'ha la vendetta infinita Eh niente Fote Vabbè Il mio bo Questo non l'ho capito Questo è Il dio della vendetta Tre volte Tre volte Ma è normale Cioè è il red Dell'anti ganking Quello Non mi sorprendo Se adesso magari Attiverà una quarta Probabilmente Visto Non lo sto vedendo Quella che hai appena visto Questa era la deflecche dello rocci Questo invece era un pezzo Io faccio il pari a leggero Sì io ho fatto tre volte Oggi è stato un busci di merda Eh adesso non riesco più a fare un cazzo Tu e l'attacco No pensavo che Lontani Ma è ritardato questa? Ma sia proprio un ritardato Ma Un attimo Non è che sto facendo Le esecuzioni ci sono Non è già me che non l'ho finito Ha acquittato? Ah no ok Ha laggato No no Non ha acquittato Ah acquittato Ok no perché Mi sembrava strano Ma chi? Il centurione Ah no Non ha acquittato Eh io Della mia visuale Della mia visuale Io lo abbracciate Voi siete trasportato Due metri più in là No 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 So Io serve Del sto gioco Ah minchia No Ma minchia tanto Eh lo so Io ti metto Sì però E tu ti metti davanti Non hai se mi mini così Non hai non era deflector Che stanno di uscire Spam Oh madonna Oh cesus santo Perché Ma non li sanno Usare bene Sti personaggi No Ci devono Spammare Ci devono Spammare Come uno schifo Ovvio Cioè Mai perso Contrano bushi E ti Spam Non mi fa Le deflector Eccola E dai La smettete No no Dovete smettere Ogni volta Che abbraccio Qualcuno Non è Non è Eterrato Le palle No Sei tu che vieni a rompere le palle A chi sta facendo altro Sei troppo lento Un po' Sì Loro Quanto caspire È diventato veloce È diventato più veloce di prima Non mi dire Oh Ti spammo Come tu hai spammato a me No No Io sto per fare Defecto Ma chi ti caga Se magari mi fanno passare i minion Brava Brava Non bushi Già uno brava Chi ma chi mi stava per cerchinare Non so Mi sa Che vedete dove Quella forchetta Se mi prendeva Quanto ridevo Nemico e rotta cosa Sta tutto a caso Ma ciò lo dicono a caso Madonna Che cazzo mi ha ucciso Me la uccidi E poi mi ha cambiato Target Mi ha cambiato Mi ha cambiato Mi ha cambiato Non posso Un attimo Faccio Non posso Vabbè Allora Mi ha rianimo Da solo No 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 Stai Oh no Arrivando Bucci Che fa Su Su Arrivano Bucci Che pregono Arrivano Bucci Nini 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 Ferri Ferri Doppio Ferri Vabbè Ma Sono da solo Sempre da solo Contro due E Muore 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 Non muore Sotto qua No Sbagliato Bravo Fai il ferri Doppia Doppia La doppia Dopo il doppio Perry La doppia Dopo il doppio Perry Mamma mia Signori Oroci Ora Signori Ora Sce Oroci Oroci Maio Bel Perry Fermo 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 No Non Uccidere La Mi serve Eh Vabbè Rimasto Una di vita Uccidimela Adesso Però Che cazzo L'ho uccisa No Perché ha fatto La tacco schivata Ah ma Questo è un bot Ah ok No problem Guarda che adesso Tornerà Lo sai Sì Vabbè Non problema Questo qua Un botto L'ho raro Sai che c'era Un botto A livello 1 Ma perché Fai la braccia I soldatini Perché così Mi refullo Hai perso Ah wow E se ne puoi quei soldatini Ah si Che fuggi anche pure Quei soldatini Non l'ho mai fatto Ti giuro Ti giuro Ma tu sai che ti refulla Tutta la stamina Sì lo so che mi refullo Tutta la stamina Bro Eccola E' arrivato E' arrivato Lo su Io per refullarmi Non usavo I soldatini Eh io se voglio Sì tanto so qua Non è che devo andare Chissà dove Eh Sto sanguinamento Grande Ho finito la stamina Ma l'ho abbracciato Refull Ho sprecato la mia Special Vai ucciso Guarda come spamma Nonì Nonì Te prego Non mi spamma Te prego Mamma mia quanto godo E' arrivato E' arrivato Il priore Mentre stavo Ero E' arrivato L'inforte Vabbè Perché siamo tutti morti Perché vedo solo croci Dal nostro lato Che cazzo vuol dire Perché Vuol dire Infermeria Vuol dire che siete tutti scarsi Che cosa vuol dire Anche tu Quindi sì Io sono Succita tre quarti d'ora Subì scusa Sono subita tre quarti d'ora Senza morire Quindi Sono morto adesso Mi sono fatto una doppia prima No io l'ho Io l'ho Il perlore Questo caldatore Non mi piace Ho qui prima E volevi Bravo Bel perry L'ho fregato Mi rompono più le palle Gli alleati Che i nemici Ovviamente ho fatto curare Con l'abbraccio Madonna Ogni volta Ogni volta Mi sto per curare No ti annullo Maffanculo Non so che te lo potevo annullare Adesso Sì lo so Ma sei una merda Comunque Non è che se non è annullato Allora sei bravo Sei una merda A prescindere Ma siamo irrotte In tutto ciò Eh vabbè C'è uno E' qua No col cazzo Che mi avvicino Per farmi buttare di sotto Cioè per farmi one shot E niente la rinuncia La rinuncia Ma la danno dopo tre e quattro Madonna quanto spam Porchetta Oh Vabbè che gioco di merda Madonna Questo è OP Questo non fa nient'altro Dalla mattina Dalla sera No non fa nient'altro Dalla mattina Dalla sera Questo Ma che ne sai T'ha fatto la combo combo Questo qua Prima ha usato la vendetta Quattro volte in un combattimento Eh perché è bravo a parare Deve a perriare Deve morire Non fa nient'altro Dalla mattina Dalla sera Eh non so Ci stanno I giocatori Allora Che dobbiamo fare Ma io devo dire Che c'è una vita Di fuori Ok soprattutto Ci sono più giochi Di uno Madonna Dobbiamo bannare L'account Assolutamente Sì Magari però Non so come si fa Quindi allora Io non voglio diventare Orochi main Ma dopo la partita Che ho fatto Con l'orochi Esattamente Orochi è forte È inutile Che Puoi dire Quello cazzo Che vuoi Ma è forte Sì Ma non lo tutti Usano per spammare E perché così si usa Ah è vero Poi saranno in modo Schillato Poi saranno in modo Schillato Dalla Mettite Sì È vero Che cazzo è successo Non lo so Di tanto crash A random Sì lo so Capita No la mappa Dovuta Una scheccia Oh mio Tio l'ho costante L'ho buttata io Ah dai Non botta Era mai se non me lo dicevi Guarda C'erano due mappe Ognuno aveva un voto Ho preso la prima mappa Che aveva Il voto Le due Ed era questa Mamma no Tu lo sai che odio sta mappa No Non lo so Lo so adesso E tanto non riconosco le mappe Sì sicuro Sì sicuro Quindi anche la prossima volta La sceglierò senza neanche voler Ok userò l'hanno Pussy Perché sei scarso Ho un altro Un altro Pussy L'hanno Pussy è fatta veramente Per spammare dai Ora diciamo Tu non hai capito ancora Che tutti i personaggi giapponesi Sono fatti per spammare No io ho capito che Possono essere usati in modo schillato Però la gente li spamm E basta Questo io ho capito Ma è giusto così Non si chiama Pussy Cioè un vecchio con il martello Era un vecchio fabbro Oh no Un vecchio fabbro Con la il maiusco Vendicarsi E venuto a vendicarsi perché Abbiamo rubato il martello E poi se l'ha ripreso Non so se l'ha già ripreso Perché cazzo vuole vendicarsi C'era già Menato Vendicarsi Vendicarsi Della fronte Molto vendicativo E' suscettibile Guarda la cresta Da ribelle Dopo che mi avete preso Il martello Sono andato In un lungo viaggio Interiore Mi sono tagliato i capelli Facendomi questa cresta Ho allenato il mio corpo E la mia mente E sono diventato Batman Sono diventato E solo perché abbiamo preso Il martello Esatto Solo per quello eh Angei di gemelli Vediamo se l'hanno bussiva così tanto schifo come dicono Che si l'hanno bussiva schifo Mi spammare R1 e basta Madonna sto pilastro che sta in mezzo Madonna sempre Dai La smettiamo Ma questo è un bot Perché C'è scritto bot E cosa vuol dire E' un bot Si allora Aia è il vecchio Con il martello Mi ha dato il martello Mi ha dato il martello Cosa Il passezzino all'indietro Ho fatto il passezzino all'indietro Gioco maledetto Ah Propondis Si ma che palle Però metate delle volte Il mio abbraccio Vi è interrotto da voi Alleati di merda Non so se si guarda Sono alleati Sono alleati di voi Non ci conosciamo neanche Alcuno va a subire Madonna Siamo a 20 Senti loro a 230 No te prego Non mi fate del male Non mi fate del male Ti prego no Ti prego No me prego Ti prego no No Ho fatto il passezzino all'indietro Gioco maledetto Dai vediamo Andiamo a gestirci C'è un'altra 1v4 Su c Su avolo Vuol dire Questa perria Oh Vabbè Ma dai Ma che merda Di gioco Lo so Lo sapevi Adesso Te ne sei accorto No Più bilanciato Dbd No E' quello Corre su B No Di prego Non vuole morire Un po' Toto E' andato Quello Stiore Toto Ho sentito Il reparto Toto Si è andato Su c'è A un rompere I bot Che palle Oh no Quello Ho fatto Una brutta Fine Te prego No Te prego Ah corri Scappi Brava Io ti ammazzo I bot No Prego Cadi Di sotto E vabbè Sì Dio Madonna Mi sono gestito Un A1 V2 Plano push Che non uso mai Va bene I G Ma Ma perché Quando usano La vendetta No io non capisco Perché sono figli Di trovi I miei alleati Ogni volta Che il nemico Usa la vendetta Quelli Si Si rintanano E invece di menarlo Insieme a me Mi fanno morire Ah Usato la vendetta Me ne vado Aspetto che muoia L'alleato Affanculo Eeeh Si acrobata E che caspita E No bussi acrobata Signori Adesso 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 Dov'è Gli alleati Madonna Quando servono Ma perché Sempre Per i cazzi Loro Gli alleati Sempre Perdiamo B Perdiamo C Voglio andare A giocare A death Mi sono rotto Il giocare Dominio Non si può fare Con gli handicappati E hanno anche un bot Vuol dire che abbiamo Proprio dei due Ritardati in squadra Ma che stai a dir Non ce l'hanno Il bot Allora Non un bot In teoria No Non ce l'hanno Più Non ce l'hanno Più Peccato Che cazzo Che cazzo è successo Ho raggiato La granata E vabbè E vabbè Questi Gankano Ma va Non me ne ho d'accordo Sì ma hanno rotto Le palle Perché a me Non capita mai Qualcosa come il Gradiatore Che c'era prima Che quando lo Gankano Para tutto E fa la tripla Sono con ciò Se ciò Puoi muore Dopo averla fatta La tripla Perché funziona così Perché Sai com'è Perché è scarso Oh Vabbè La vita Legacy Non fare stupidaggini Bravo Legacy Oh Rompili Coglioni Oh Mio Dio No Non sono Non smetti Di menare Me Non sono Che scaro Di te Ragazzi Ma perché Mi è stato accanto Non mi aiuti Ma sei ritardato Bravo Complimenti Così impari Ad andartene Testa di cazzo Ho tirato il fumaggio Oh Mio Dio Cioè Raccanto a me Te ne vai Ma sei ritardato Perché dovevo curarmi C'era B libera Vado Vuol dire che ci sono di fumogini Sul gioco di spade Qualche problema c'è Scusa Lui ha fatto cosa di buono Sto rocce Che senso ha Che senso è che Ci sono di fumogini In un gioco di spade Spade scudi Lance Asce Sto rocce sta dimostrando P Adesso muore però Vabbè Sto rocce come light spam Eh vabbè Dei giocare così No Salva mi E Niente Adesso Lo uccidono da gettandosi Di sotto Guarda Sì sì Eccoli Già stanno lì Però l'ha visti Eh L'ha schivato L'ha schivato Ma se tipo adesso Finisce il tempo Se adesso finisce il tempo Se adesso finisce il tempo Vincono loro no Sì Che Vabbè è morto Se finisce il tempo Vincono loro Però C'è la più soddisfazione Che non sono uccise Perché altro che è impossibile Come una squadra Demente C'è quello rocce Adesso ha fatto Un'azione Da madonna No Perché non fa Queste azioni Durante tutta la partita Ah boh Quando ho fatto Un 16 What Non sai contare Evidentemente Beh Dettaglio Io non mi ricordo Che ho fatto Un 16 Dei stare zitto Altro che Io mi ricordo Io mi ricordo Essere morto Molte volte Sì Ti hanno anche Rianimato probabilmente E io voglio Non voglio combattere Contro gli stessi Perché mi hanno rotto i coglioni O Almeno Non voglio avere Gli stessi In squadra Quindi non vuoi avere Mere di squadra Ah infatti Basta Basta Eh vabbè Inutile Ma grazie Mi ha detto Che sei inutile Grazie Beh ma Lo sapevi già Non è che Ah effettivamente Fanno tutti schifo Ah no Sì fai schifo Esatto Come fai a saperlo Eh non lo so Infatti non lo sapevo Io sto dicendo Qualcos'altro Però vabbè Che stai facendo Perché non ha fi Sto sistemando una cosa Che non avevo fatto Quindi adesso Stai zitto E ascolti la poesia C'era una volta No te prego Cosa Per favore no Cosa Non raccontare niente Non raccontare niente C'era una volta No Un anello No Che poteva Incularli tutti No No Però l'avevano distrutto E quindi fine No E l'anello Non si potrebbe ricostruire No Buco di trama Del signore degli anelli No E' stato creato Quando c'era Sauron In teoria Non puoi ricrearlo Perché distruggi Sauron Distruggendo